Per me è una sorta di inizio di percorso perché l'anno scorso abbiamo partecipato con la compagnia, con lo spettacolo e quest'anno mi ritrovo con il secondo spettacolo che è una prima importante, giovedì sera e in più con quattro lezioni da tenere come docente quindi è una sorta di percorso che mi accompagna nella crescita personale della compagnia soprattutto a livello di scambio e di conoscenza di altre realtà non solo per l'allievo che impara a fare delle lezioni e delle esperienze con insegnanti di diverso tipo ma anche a conoscere le realtà di altre scuole con stili diversi, con approcci diversi alla lezione ragazzi di età abbastanza diverse che si incontrano con lo stesso docente insomma credo che sia un'esperienza d'arricchimento per tutti